Diventa argomento di dibattito, anche politico, il caos che domenica ha contraddistinto il traffico veicolare nella città di Salerno, senza risparmiare le arterie che conducevano verso la costiera amalfitana. Complici al clima quasi estivo, la città e la costiera sono state letteralmente prese d'assalto. Un argomento, come detto, che si è trasformato presto in un dibattito acceso dopo che Enzo Bove, un noto operatore dell'intrattenimento salernitano, ha scritto sul suo profilo Quando Salerno è vuota, postate le foto della movita desolata, quando si riempie per una bella giornata di sole, postate il traffico, trovate pace. Centinaia i post che commentano il chiaro messaggio di Enzo Bove, che si dividono fra sostenitori e chi la pensa in modo diametralmente opposto, come Daniele Braca, che fa la cronaca di una giornata infernale, tutto bloccato e anche chi aspettava i pasti alla mensa di San Demetrio si è trovato in difficoltà. Al dibattito prende parte anche il consigliere comunale Corrado Nadeo, desolazione, caos terribile, terzium non datur. Chiedere di accompagnare 20 giornati di grandi afflussi con la giusta presenza di agenti della municipale, al fine di garantire tutti, specie dopo lo 23, è troppo, dice Nadeo, ieri in piazza Portanova avevano apparecchiato un tavolo per una dozzina di commensali, praticamente sotto la banca. Salerno non può essere abbandonato a sostessa, continua, non lo merita, va tutelata e difesa per potersi offrire a quanti vengono a visitarla pieni del rispetto che merita questa graziosa cittadina di 135.000 abitanti. Il resto è retorica, continua, retorica stracciona sul lavoro da tutelare. Una città che si è svuotata perdendo 30.000 abitanti negli ultimi anni, dice sempre Nadeo, e i 30.000 che sono andati via, sono in buona parte giovani ed eccellenti laureati del nostro Ateneo, la cui massima aspirazione non è certo dare da mangiare in asporto a visitors distratti e superficiali. Le soluzioni sono state proposte, dice sempre Nadeo, come quella di riportare temporaneamente il traffico leggero lungo via Sabatini, peraltro proteggendo chi motociclisti e ancora di più ciclisti non rientrano in città a contromano, riducendo il carico su una struttura che una volta dragato il porto troverà carico maggiore di container da smartire, ma le proposte non hanno avuto né ascolto né attenzione. Diverse le pecche che mette in evidenza Nadeo, che chiude ricordando un'altra questione, quella dei bagni pubblici che costano quasi un milione di euro all'anno alla città e sono inavvicinabili. Abbiamo proposto di privatizzare almeno questi, ma abbiamo perso acqua e sapone.